Io non rischio non è solo la capacità di reagire ad un evento calamitoso adottando le buone pratiche di protezione civile per fronteggiare un'emergenza in corso. Io non rischio è soprattutto mettere in campo azioni di prevenzione e mitigazione di quei rischi che non possiamo eliminare del tutto. Vediamo in questo video un'attività che come volontari possiamo fare in occasione delle piene fluviali per ridurre il rischio di esondazione dei corsi d'acqua. Si tratta della cosiddetta sacchinatura ovvero il posizionamento di sacchi di utari quindi di terra o sabbia sugli argini del corso d'acqua con lo scopo di innalzare e rinforzare l'argine stesso. I sacchini non del tutto pieni vengono posizionati con la bocca rivolta a monte in modo che il successivo si possa sovrapporre per dare più stabilità alla barriera che stiamo costruendo. Qui ci limitiamo alla posa in opera di un piccolo tratto con il solo scopo dimostrativo. nella realtà si può arrivare anche a lunghezze notevoli. Vediamo qui la disposizione di sacchini in forma di coronella. Questa forma serve per creare un piccolo bacino di raccolta per contrastare i fontanazzi causati da eventuali infiltrazioni d'acqua al di sotto del corpo originale.